Ok ragazzi, adesso andremo a fare 10 esercizi insieme proprio di Total Body. Io adoro Total Body perché ci permette di avere i benefici del trampolino, ok, proprio con i benefici di Acceleration Training, con il Functional, ok? Total Body piace sempre, così spingi giù, cominciai a riscaldarti, andremo a fare 10 esercizi per fare un circuito completo. Questo circuito può essere poi ripetuto 3 volte per fare 30 minuti di esercizi e passeremo tra un lavoro sui glutei, un lavoro sui abdominali e un lavoro sui cardio, ok? Eccoci qua, siete pronti per partire? Anch'io, ok? Siamo pronti, pronti, pronti? La prima è, spingiamo giù, 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 giù. Ok, spingo, ok, è un lungo, questo è un bambino viziato, spingi, spingi, spingi con entrambi le gambe, spingi, 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 vai, 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 dai, 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 ok, dai, eccellente, andiamo a spingere, 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 ok, è un lungo. Allora, adesso cominciate a pensare sui taloni, sulla parte esterna dal piede, proprio sulla parte esterna che state spingendo verso fuori, 25 secondi ancora, 25 secondi ancora, cominci piano e poi continui, ok, continui a spingere sulla parte esterna del piede, piano, provi di mantenere il bounce, dai, 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 spingi, ci siamo quasi finiti, abbiamo quasi finito queste prime 50 secondi, eccola, senti, quasi finito, and stop, eccellente, eccellente. Scendiamo giù, abdominali, andiamo a fare semplicissimo rocchette, ok, mi sposto, vai. Ok, giro i fianchi e le spalle insieme, vai, 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 ah, spingo, 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 dai, dai, continui, vai, vai, continui, spingo e continua, vai, 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 fianchi e le spalle insieme, 25 secondi, dai, 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 spingo, 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 continui, dai, 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 spalle il fianchio insieme, sono qui nel bellissimo mondo fitness di Roma dove noi insegniamo ed è bellissimo a siete salvi bravi ragazzi adesso andiamo a fare il nostro lavoro cardio, bello skip tutti insieme tirate su quelle ginocchia su, su, su 4, 3, 2 gira dai centro, vai vai, vai gira, vai vai, come on, come on, come on giri tiri sulla ginocchia gira oh si gira come on, come on, come on, come on giri ginocchia su spingo, spingo ti ho detto, lavoro cardio glutei e addominale vai, vai and stop ok, eccellente passo indietro bravi ragazzi passo indietro adesso questo passo indietro portiamo la gamba destra in avanti ok e dobbiamo sollevarci ok facendo vai 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 ok 25 per gamba spingo spingo verso il talone talone spingo giù io adoro questo esercizio per il gluteo dai, come on spingo, spingo verso basso talone busto in avanti dai non usare le gambe indietro cambia gamba vado su e giù su e giù su e giù ancora su vai anche giù poco poco giù spingo sul talone verso basso vai 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 continui continui così continui così spingo 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 4 3 2 stop eccellente scendiamo giù andiamo in estensione andiamo a fare il 100 però solleviamoci poco poco abdominali tesi braccia scese ok 50 secondi vai 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 ok uno lungo su lungo lungo ok abdominali vai grandi sorrisi dai siete già a metà strada siete già a 5 minuti quasi ok questo è il nostro 5 minuti quinto esercizio vai vai ancora 25 secondi vai dominali tesi tira dentro l'abdomen concentri di tirare dentro l'ombelico ancora vai vai trampolino amplifica tutti i movimenti che altrimenti atterra non sentiresti perché su fermo lavori metà di quale che fai sul trampolino and stop eccellente ragazzi ok su su a me piace tantissimo il skip perché lavora tantissimo stabilizzatori abdominali così tengo bello tesi abdominali su con le gambe su con le gambe tiro su ok mentre stai lavorando i abdominali rimangono tesi senti la spinta sul tappeto e provi a tirare più sulle ginocchia possibile anche andando più lento ma dalla spinta spinta e tiro sulle ginocchia giro 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 ancora giro vai 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 ancora 25 secondi sei più che a metà strada gira dai 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 concentrati tutto questo lavoro su total body è proprio su intensità tira tira dai 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 bravi 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 continui tiri su quella ginocchia ci siamo ci siamo ci siamo stop eccellente scendiamo giù andiamo a fare 25 per lato stendo la gamba ok vado in estensione in accelerazione 25 per lato per i glutei vado 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 piedi abdominali glutei e cardio bello circuito dosato su quello che ci interessa a tutti quanti sono gag brucia grazie vai molleggi con le braccia mantieni l'accelerazione non lo fare a vuoto non lo fare a vuoto grandi sorrisi push glutei tese stendi la gamba vai cambia gamba uh yeah mantengo l'accelerazione stendo la gamba lateralmente vado 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 continui continui vai 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 ancora stendo stendo vai 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 stop uh e sette minuti sono andati ok giro di busto alzo il ginocchio non salto sulle gambe di sostegno ok 25 secondi per lato busto che giro ok chiudi poco poco le spalle verso il ginocchio state provando di fare un standing crunch chiudo 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 vai grandi sorrisi stai facendo ottimo lavoro spingo 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 ah sente l'abdobe che è compatta sente che è il lavoro che è il lavoro che state facendo di torsione di obliquo di core muscles ok cambia vado vado torsione di busto tira tira vai 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 ancora tiro e vado tiro e vado yeah eccolo là usa l'abdominale usa l'abdominale vai vai tre due stop eccellente adesso andiamo in una corsa adesso con la corsa devi pompare le braccia ginocchio vengono frontalmente ok ma pompa pompa 50 secondi abbiamo quasi finito ragazzi go asso le gambe lo so siamo al nono minuto ci manca soltanto un esercizio dopo di questo ragazzi dai 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 vai 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 come una ima mi piace 25 secondi gira 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 spingo spingo con le gambe usa lì ragazzi usa le gambe pompa con le braccia pompa con le braccia ci siamo quasi usa con le braccia sorridi 3, 2, 1 stop eccellente allora scarichiamo l'ottimo minuto con un bello jumping jack ma voglio vedere le gambe che menano le gambe che spingono tutto combatto ultime 50 secondi destra diagonale spingo spingo 4, 3, 2 centrale di nuovo vai ultime minuti ultime secondi onestamente diagonale go ultime 25 secondi grandi sorrisi vai gambe gambe spingo 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 10 minuti sono finiti come on spingo 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 3, 2, 1 stop eccellente allora il nostro 10 potete recuperare rifare questo stesso circuito due volte per 30 minuti di lavoro e ti aspetto qui sul mio canale Jill Cooper YouTube ricordate sempre di fare i playlist con i miei video così la potete trovarli più facilmente condividete la passione e mi raccomando iscriviti al mio canale se ci è piaciuto un bacio ciao 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 Grazie.